Minacce e abusi sessuali nei confronti dell'ex fidanzata, sottoposta a vere e proprie punizioni nel caso non avesse assecondato i suoi desideri. In un'occasione, dopo il rifiuto di avere rapporti intimi, l'aveva costretto a dormire sul balcone, senza coperte. Una violenza psicologica agghiacciante, l'uomo le aveva persino sottratto la tessera sanitaria in modo che lei, malata oncologica, non potesse accedere alle cure. La colpa? Non aveva voluto partecipare a una videochiamata di gruppo a sfondo erotico sul web. In manetta è finito un 44 anni brianzolo, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Monza, agli ordini del Maggiore Emanuele Donofri, che hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia catalare in carcere emessa dal GIP su richiesta della procura. Le accuse? Violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni dell'ex convivente. Ma non solo. Quando l'ex fidanzata aveva trovato la forza di lasciarlo, il 44 anni monzese aveva allacciato una relazione con una nuova compagna. Gli abusi erano ricominciati con ancora, se è possibile, maggiore violenza. L'uomo, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, era arrivato a cercare di sfondare alla porta di casa con un martello pneumatico perché la donna, dopo avergli negato il rapporto sessuale, per sfuggire al tentativo di abuso, terrorizzata, lo aveva chiuso fuori e si era barricata in bagno. A salvarla, una pattuglia dei carabinieri, bloccato l'aggressore, i militari avevano prestato le prime cure alla donna, ora le manette.